Ciao a tutti e benvenuti a questo video, sono Parafranz, il video scorso vi ho fatto vedere l'unboxing di questo prodotto mentre in questo video vi farò vedere il funzionamento lo stavo provando e ho già disattivato un colpo per l'M95 austriaco era messo in queste condizioni praticamente, questo qua è messo ancora peggio e ora andiamo a vedere come è stato disattivato questo è il bossolo come vedete dentro è rimasta la polvere che comunque non sarebbe mai esplosa perchè è veramente cristallizzata questo qua sarà smaltita presto perfetto ora andiamo a vedere come è messa l'ogiva ecco qua l'ogiva è da pulire per bene ok ora andiamo a sistemare l'altro colpo che è veramente molto molto deteriorato ecco qua prendiamo il nostro martello sperando entri si meno male di pochissimo andiamo ad avvitare e sbattere vedete sono bastati appena due colpi e il nostro bossolo è stato disattivato ecco qua questo qua è l'ogiva questo qua è l'ogiva questo è il bossolo benissimo per questo video è tutto da parafranz ci vediamo ovviamente al prossimo video vi ricordo che una volta disattivati i bossoli va praticato per poterli detenere in sicurezza un foro sul colpo ecco 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 Grazie.